Grande successo per la serata delle Fonti Awards, tenutasi lo scorso giovedì 23 maggio nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte a Milano con il patrocinio della Commissione Europea. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un CEO Summit dal titolo Evoluzione Digitale e Mercato Assicurativo, quali prospettive per il futuro, che ha visto l'interessante confronto degli esperti del settore. La serata è poi proseguita con la cerimonia di assegnazione dei premi condotta da Manuela Donghi, giornalista di Le Fonti TV, con la partecipazione esclusiva dell'attore e presentatore Germano Lanzoni. La serata delle Fonti Awards è stata interamente dedicata all'evoluzione del digitale e alle possibili sinergie con il mondo delle assicurazioni. Il CEO dell'anno, assicurazione del credito, The Winner is Ernesto De Martini Scopal Italia. Vado io per la capacità di guidare una compagnia con lungimiranza, visione innovativa e passione. Per gli importanti risultati conseguiti, il vincente modello di business adottato che vede al centro la figura degli agenti autentici credit manager delle imprese. Grande comandante, grazie. Dottor De Martinis, doppio riconoscimento ai Le Fonti Awards 2019 come CEO dell'anno ed eccellenza dell'anno nell'assicurazione del credito. Come commenta questi premi che siete aggiudicati rispettivamente per il terzo e per il sesto anno consecutivo? È una conferma dell'ottimo lavoro che stiamo svolgendo e da un po' di anni effettivamente che stiamo guadagnando quote di mercato grazie a una nostra strategia chiara che ci differenzia anche dai nostri competitor. Devo dire che questi due premi quest'anno sono ancora più ambiti perché cascono proprio nel trentennale della compagnia. Faccio una compagnia molto giovane, è nata esattamente trent'anni fa, per cui questi due premi sono il giusto coronamento dei nostri sforzi. Come appunto appena detto è un anno proprio importante perché festeggiato il trentesimo anniversario. Che bilancio si sente di fare? Devo dire che noi siamo una start-up, siamo una compagnia che è partita appunto trent'anni fa da Polizazzero. Quindi tutto quello che abbiamo costruito in questi anni vuol dire il numero due player nel mercato del credito con il 30% di market share, tra i leader per quanto riguarda il mercato delle cauzioni. Tutto questo l'abbiamo costruito step by step, polizza per polizza, per cui devo dire una grande soddisfazione, un bilancio direi molto molto positivo. Nel frattempo abbiamo anche allargato il nostro orizzonte di business, nel senso che abbiamo avviato altre linee di business, le informazioni commerciali, il recupero dei crediti, per cui devo dire un percorso molto interessante e di grandi successi. In questi ultimi anni, anche grazie alla sua guida, le performance di crescita della compagnia sono aumentate costantemente. Che altri traguardi intendete raggiungere? Ma lo vedevamo proprio ieri. La compagnia negli ultimi sei anni è cresciuta da una media dell'8%. Il nostro è un business molto legato all'andamento economico, quindi molto legato al PIL, alla crescita del PIL, per cui crescere dell'8% rispetto a quelle che sono le crescite medie del mercato italiano, dell'economia italiana è una grande soddisfazione. Per cui sarà difficile ripetere questi numeri, queste performance nei prossimi anni, ma devo dire che ci proveremo, quindi saremo sicuramente ancora sul mercato a fare la nostra parte. Il nostro obiettivo è quello di diventare market leader nei prossimi anni.